Le prove di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si articolano in test preselettivo, prova o prove scritte, prova orale. Il test preselettivo si svolgerà il 15 aprile per la scuola dell'infanzia, il mattino, e per la scuola primaria, il pomeriggio, il 16 aprile per la scuola secondaria di primo grado, la mattina, e per la scuola secondaria di secondo grado, il pomeriggio. Le prove di accesso sono definite dal decreto 30 settembre 2011, in particolare l'allegato C illustra gli argomenti su cui i candidati dovranno prepararsi. Si tratta di competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate per grado di scuola, quindi infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti, riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno. Aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi, capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica. Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè a saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale, linguistico e logico-matematico, quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale. Competenze organizzative, in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica, quindi il piano dell'offerta formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole, le modalità di autoanalisi e le proposte di automiglioramento d'istituto, la documentazione, gli organi collegiali, quindi compiti e ruolo del consiglio d'istituto, del collegio docenti, del consiglio di classe o team docenti del consiglio di interclasse. Forme di collaborazione interistituzionale di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. Dopo i test preselettivi e le prove scritte ci sarà la prova orale che verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali. Per la preparazione ai test preselettivi del 15 e 16 aprile e alle successive prove, la tecnica della scuola propone alcuni corsi e-learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più visitate il sito www.tecnicadellascuola.it e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità. www.tecnicadellascuola.it e continuate a seguirci per restare sempre a